La RLC è stata fondamentale e quindi ho avuto la fortuna di conoscere persone incredibili, quelle appartenenti ai servizi segreti. Persone due, persone intelligenti, persone acute. Vi prometto, non combinerò pasticci con loro, mi hanno salvato la pelle. Sono persone fantastiche, vorrei ringraziare i servizi segreti. E poi tutti gli agenti di ordine pubblico di New York che sono qui con noi questa sera, persone spettacolari, talvolta sottovalutate purtroppo, però noi apprezziamo il loro lavoro, noi apprezziamo il loro accordo. Allora, è stata una serata storica, un evento storico, ma affinché sia veramente una giornata storica dobbiamo andare avanti con il lavoro. Vi prometto che non vi deluderò, farò un grande lavoro. Grazie mille.